dicevamo nel precedente video questo prosegue il video precedente che potete sempre visualizzare su by rossi youtube la strada è stata chiusa perché la frana c'è accentuata la frana che ormai persisteva da mesi da molti mesi che consentiva le macchine non la frana insomma c'era il passaggio su questo lato a senso unico alternato a vista a volte anche anche molto rischioso adesso la strada è chiusa non si può più accedere sono barre di cemento in più in più posti una vicino al bivio di corazzo che però può essere attraversate in quanto poi pochi metri più avanti è possibile per i cittadini scannali san mauro perché percorre la strada percorre la strada della centrale la strada della centrale che poi si collega vedete non so se vedete quelle luci lì in fondo ecco quello è il bivio di papanice e da dove si esce percorrendo poi la strada della centrale e a seguire il lungo rettifilo della di questa provinciale per papanice tra l'altro percorsa anche dai papaniciari perché anche la strada di papanici è franata dalla parte opposta diciamo oltre queste queste colline insomma molto un po più in là è franata anche la strada di papanici e quindi è stata chiusa pure quella e quindi anche i cittadini papanici devono fare il giro da dal passo vecchio dalla rotonda dell'anas e mettersi sulla strada provinciale 56 sul primo tratto percorribile e poi deviare dal loro dal loro bivio era una strada alternativa perché loro magari preferivano fare quella dietro le fabbriche insomma vicino il cavalcavia nord di crotone e invece devono fare anche questa strada diciamo la strada degli scandalesi o dei mauresi e poi con mettersi nella nella strada loro diciamo nel lungo rettifilo per poi proseguire arrivare a papanici e invece qua come vedete questa collina questa collina sono mesi che frana ogni a ogni pioggia invade la carreggiata come della strada anche sporca ma per fortuna adesso non ci interessa poco perché la strada è chiusa non è più percorribile le barre di cemento non si manca tecnicamente ma che forse con una bici o meglio forse con una bici sì ma è sempre anche quello un rischio perché non si sa se magari un giorno si piove di nuovo qua possa franare del tutto adesso viene il bello siamo al 29 febbraio 2012 oggi adesso sono le 6 e 20 e noi ci chiediamo oggi lo chiediamo al presidente zurro suo assessore ai lavori pubblici all'infrastruttura alle strade che sia i tempi i tempi gli scandalesi caro presidente zurro vogliono sapere i tempi quando ci ridarà la nostra strada perché se è successo questo è colpa sua perché sono mesi che la strada non dico che era come adesso ma era simile a questa era poco poco meno evidente la frana ma siamo lì non è cambiato moltissimo quindi presidente è un invito a parlare con i cittadini scandale venga scandale faccio un comicio faccio una faccia una riunione convochi un consiglio straordinario a scandale e nelle scuole elementari in palestra dove vuole in piazza tanto comincia a fare anche caldo pare che sia il febbraio fine febbraio più calda del secolo insomma sono previsti 20 22 gradi e non so se anche in calabria ma in italia in genere quindi l'aria è sempre un po più calda e veda quello che deve fare perché gli scandalesi vogliono sapere perché sono altrimenti lei rischia di rimanere solo come questo alberello vede io questo alberello a tempo fa l'ho fotografato e la foto l'ho chiamata solitudine vede come solo in mezzo a tanti altri bursi che in questo momento sono sono diciamo non secchi sono in pausa hanno buttato le foglie e quindi l'unico alberello verde in tutto questo immenso spiazzo di di vegetazione è questo questo qua questo dio il fuoco eccolo qua è un pino io non ne capisco molto comunque se se non prenda non prende provvedimenti rischierà di restare più solo di quanto già è perché diciamocela tutta onestamente finora non ci ha fatto vedere granché non non si può dire insomma che il suo mandato sia di quelli eccellenti di quelli che sarà storicamente ricordato noi io rosario rizzuto noi scandalesi attendiamo risposte vogliamo sapere quando ci ridarà la nostra strada le ricordo che questa strada è franata già da mesi da mesi quindi ha una priorità rispetto a strade franate da pochi giorni capisca bene quello che voglio dire non si prendono provvedimenti prima in altri posti e si trascuri scandale non glielo consentiremo presidente con questo stupendo questa stupenda alba che sta prendosi su crotone e provincia io auguro a tutti voi una buona giornata la nostra strada è un'altra stupenda